Vende droga a un minorenne e resiste alla polizia ferendo un agente. Arresto della squadra mobile della Questura a Verbagna nel corso di un controllo. Gli uomini della sezione antidroga hanno fermato un cliente, un 29enne, che usciva dalla casa di un pregiudicato, trovandolo in possesso di 50 grammi di hashish. A quel punto sono entrati nell'appartamento del presunto pusher, un 25enne, CM e le iniziali hanno perquisito la casa. Sono saldati fuori più di un etto di hashish e 35 grammi di marijuana, di cui una parte è già divisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento, 270 euro in contanti in banconote di vario taglio. Il 25enne a quel punto ha resistito ai poliziotti, aggredendo e ferendone uno, che ha riportato lesioni guaribili in una settimana. Dal momento che in casa c'era un minorenne che stava acquistando la droga, gli sono contestate le aggravanti previste dalla legge in materia di stupefacenti ed è stato arrestato sia per detenzione di droga e fini di spaccio che per resistenza a pubblico ufficiale. È stato portato in carcere, dove è rimasto anche dopo la convalida dell'arresto. I clienti sono entrambi stati segnalati, il 22enne alla prefettura, mentre il minorenne alla procura competente presso il Tribunale di Torino.